buongiorno a tutti sono veramente molto contento di presentare Enzo Krupi che starà qui con noi per un mesetto e questa è una grandissima risorsa per tutti due parole su Enzo io lo incontrai culturalmente la prima volta direi almeno 25 anni fa quando Matteo Motterlini mi mandò il loro libro che fu per certi versi groundbreaking decisioni mediche è un libro molto bello che fu uno dei primi se non il primo a introdurre in Italia questo problema assolutamente incredibile che sono le fallace nel ragionamento medico poi dopo ho avuto la possibilità di apprezzare il suo lavoro come logico induttivo e come studioso dei fondamenti dell'inferenza induttiva a tutti i livelli e poi l'ho anche incontrato e conosciuto mi ha fatto un grandissimo piacere quindi è una grande opportunità averlo qui a Urbino Enzo ha affrontato nei suoi lavori al di là di questo problema delle fallace ha affrontato un tema veramente molto profondo che è quello di comprendere quali sono gli aspetti formali che noi dobbiamo immettere nella logica induttiva che scegliamo che in qualche maniera riverbirino effettivamente le nostre esigenze epistemiche e questo è uno dei problemi più grandi che c'è ovviamente in questo tipo di logica come in tutti i tipi di logica chiaramente ma la logica deduttiva ha diciamo per fortuna questo template che è la logica classica calcolo proposizionale calcolo dei predicati che comunque anche se non del tutto soddisfacente ha un'enorme forza persuasiva e una grande qualità matematica la logica induttiva non è così ben strutturata e quindi il grande problema è proprio questo cioè riuscire a far dialogare le esigenze epistemiche con i sistemi formali e in questo Enzo è veramente un maestro quindi sono veramente contento che sia qui con noi grazie Enzo e ci sarà questo è il primo di una serie di seminari che dura un mesetto e saranno un'occasione molto bella per chiacchierare con voi grazie grazie Enzo da Enzo per questa presentazione generosissima forse troppo anch'io sono molto contento di essere qui e quello che spero di raccontarvi è una storia in quattro parti e sono fra di loro in parte diverse però nella mia mente potrebbero costruire un percorso unitario è la prima volta che provo ad assemblare questa sequenza quindi da una parte sono contentissimo di poterla condividere con voi e di poterne discutere dall'altra parte vi chiedo l'indulgenza di considerare che non è un prodotto finito diciamo quello che vedete non lo è ancora allora la lista dei dei punti che compaiono nei titoli di questa cosa non sono non sono schermo interno intero e penso che sia per questo che non mi dà non mi dà la però non vedo ah sì ok perfetto ok questi sono i quattro titoli e per prima cosa volevo provare a fare una una come si dice un trailer o qualcosa di simile di che cosa vorrei che succedesse in questi quattro incontri quello di oggi è una un ragionamento per certi aspetti preliminare preparatorio quindi potrebbero esserci delle cose anzi senz'altro ci sono delle cose che sono tutto sommato ben note però io spero di riuscire a mettere insieme un po' a collegare fra di loro i punti per arrivare ad una valutazione di qual è lo stato di questa discussione filosofica sul metodo sul metodo scientifico ad oggi che è una discussione diciamo che ha raggiunto un livello per certi aspetti di disincanto ecco un notevole livello di disinteresse però di disincanto e cerco di capire e vorrei provare a condividere con voi una una analisi del perché questo è avvenuto anche per valutare quali sono le conseguenze effettive delle premesse che ci hanno portato a questo punto la mia speranza è di arrivare a un tentativo un po controcorrente di arrivare a rilanciare una discussione filosofica generale con certe caratteristiche con certe correzioni con certe precisazioni riguardo a questo tema ed è una cosa che sembrerebbe un po' un po' implausibile per capire se è davvero implausibile ed eventualmente invertire questa tendenza questa sarebbe l'ambizione è molto importante capire perché le cose al momento stanno come stanno la seconda cosa che vorrei fare e l'avevo pensata per l'incontro della settimana prossima riguarda un'altra finestra che conviene tenere aperta quali sono i problemi che noi potremmo affrontare meglio che potremmo risolvere almeno in parte se avessimo una comprensione filosofica non vuota di che cosa caratterizza il metodo delle scienze non è una lista anche questa non è una lista particolarmente innovativa comprende alcuni temi classici però mi sembrava interessante far presente spero di riuscirci che la lista delle cose che avremmo voluto risolvere con una teoria del metodo scientifico non si è ridotta nel senso che molte di quelle questioni che avevano spinto molti pensatori a invocare questo arduo percorso di ricerca sono rimaste tendenzialmente irrisolte sono problemi ancora aperti e se possibile nel frattempo se ne sono aggiunti alcuni altri quindi dal punto di vista delle motivazioni secondo me le motivazioni di un progetto del genere non sono venute meno se uno mette insieme queste due cose uno slogan possibile è quello di caratterizzare con una formula che adesso è diventata popolare nell'epoca dei grandi progetti finanziati l'ipotesi è che si tratta di una fare un lavoro di analisi su questo tema di ricerca su questo tema è qualcosa di simile ad un progetto di ricerca ad alto rischio ad alto rendimento esattamente il genere di cose che le agenzie di finanziamento più come dire più più forti per la ricerca teorica teoricamente dovrebbero incoraggiare dovrebbero sostenere almeno questa è la mia una formulazione slogan istica di quello che vorrei suggerire combinando questi due elementi poi naturalmente e qui viene le parti diciamo che corrispondono a degli approfondimenti un pochino più specifici che sono hanno preso anche una forma scritta vengono soltanto in questo terzo passo diciamo così perché c'è un particolare esercizio di analisi condotta con strumenti abbastanza tradizionali su un caso altrettanto tradizionale che è quello della rivoluzione copernicana che però resta anche lui un problema non risolto dal mio punto di vista la valutazione diciamo filosofica se vogliamo chiamarla così perché no di che cosa di come dobbiamo interpretare quel complesso affascinante caso storico e su questo io vi proverò a presentare l'ho già fatto in altre sedi quindi qualcuno di voi lo sentirà di nuovo forse nel frattempo sono riuscito a rifinirlo un po' una proposta che riprendendo una tradizione di studi ma aggiungendo alcuni punti che mi sembra siano migliorativi dà un po' di sostanza a questa idea in che senso potremmo dire delle cose non vuote non approssimative ma in qualche modo discriminanti riguardo alla logica della valutazione delle ipotesi sulla base dei dati questo è il tema centrale della riflessione metodologica generale filosofica di cui si parla quindi questo sarà il terzo passo di questa storia e lì ci saranno un po' più di dettagli spero potrebbe essere anche un pochino più denso rispetto agli altri che sono un po' più riscorsivi e poi a questo ho pensato di aggiungere una cosa sulla quale sto ancora lavorando che suona più o meno così, anche questa ve la preannuncio soltanto poi cerchiamo di vederla quando è il momento suona più o meno così io in qualche modo sono, credo giustamente devo rappresentarmi come un filosofo della scienza paesiano questo è un po' anche connesso a quello di cui parlava Enzo ho lavorato abbastanza su questi temi di come la probabilità è stata usata in filosofia della scienza per analizzare l'inferenza incerta, l'argomentazione eccetera e non lo rinnego questa inclinazione, questa attenzione, questa convinzione riguardo all'utilità di questi strumenti siccome la parte terza non farà uso in realtà del formalismo probabilistico e questo mi sembra una cosa positiva perché è già abbastanza complicata così e perché il caso che ho scelto permette di evitarlo è stato scelto anche a degli elementi di convenienza quel caso però voi saprete forse che i baesiani sono stati spesso accusati di avere un po' questa caratteristica cioè di poter raccontare con il loro linguaggio qualunque cosa qualunque idea più o meno interessante che riguarda il ragionamento, la razionalità può essere riscritta nella lingua dei baesiani e questo in molti casi è stato considerato una mancanza un problema secondo me lo è fino a un certo punto perché il linguaggio della probabilità ha delle intrinseche virtù perché è molto flessibile, perché è quantitativo e quindi a me piacerebbe sarebbe anche un elemento di coerenza personale riuscire a tradurre quella proposta che presenterò nel terzo incontro in una controparte un po' più generale perché appunto si estende il ragionamento probabilistico per fare questo quindi l'idea sarebbe capire quale potrebbe essere una riscrittura baesiana di quello di cui si è parlato nel caso di Copernico che possa magari almeno per alcuni aspetti generalizzare quell'argomentazione e si vedrà facilmente questo si vedrà fin da oggi che per fare questa cosa bisogna per forza ritornare su una questione tormentatissima della storia della pianura della scienza baesiana forse il più grande problema della teoria baesiana del ragionamento scientifico che è noto sotto il titolo di problema della vecchia evidenza anche se in realtà è un'etichetta che comprende tantissime cose diverse e se ci arriviamo vivi nel quarto incontro dovrebbe succedere qualcosa del genere bisogna anche vedere se nel frattempo tutti i pezzi funzionano perché qualcuno è ancora lì in corso di elaborazione voi potete fermarmi quando volete io spero di non correre troppo di non incespicare troppo perché a volte mi capita di parlare un po' velocemente di mangiarmi un po' le parole vediamo un po' va bene allora proviamo a partire con l'inizio e intanto per cominciare il pensiero moderno è ossessionato dalla nozione di metodo è uno degli aspetti più vistosi della riflessione filosofica moderna soprattutto rispetto alla conoscenza e alla scienza qui ci sono due estremi noti probabilmente molto noti il primo è il più famoso di tutti che è il discorso sul metodo di Descartes Descartes dovrei dire l'altro è un caso interessante è un famoso lavoro filosofico del novecento dove in realtà il metodo viene attaccato ma non viene attaccato perché si ritenga che non esista anche questa tradizione di pensiero che poi si raccoglie intorno a Gadamer la contestazione di Gadamer presuppone il discorso moderno sul metodo perché quello che Gadamer fa è provare a sostenere che il metodo non è l'unica strada per la verità questa è una semplificazione appunto sloganistica della tesi di questa importantissima opera col che appunto non si contesta il fatto che il metodo esista e che svolga una funzione soprattutto per alcune attività preminenti del mondo moderno in particolare le scienze le scienze naturali quelle sono naturalmente al centro della discussione in quel contesto non è finita del metodo scientifico continuano a parlare tutti quanti voglio dire sono solo i filosofi che si tormentano perché lo si trova dappertutto questo per esempio è una bellissima pubblicazione per bambini divulgativa alla quale mi è capitato di collaborare è uno dei numeri del 2001 e del 2021 era dedicato a questo tema e del resto se ne continua a parlare anche in tantissimi altri contesti di comunicazione così come di formazione scientifica come se ne avessimo bisogno e come se più o meno sapessimo che cos'è quando questo testo è stato pubblicato negli anni 70 era considerato un testo provocatorio un testo come dire volutamente provocatorio questo è un è un'intervista un approfondimento pubblicato su Science alla fine degli anni 70 su su Feyerabend ma potevo trovare tantissimi altri esempi e il l'autore definisce le posizioni di Feyerabend nella sua critica al al metodo ovviamente estreme no le caratterizza come ovviamente estreme si suppone che il suo uditorio il contesto di questa discussione condividesse questa ovvietà l'ovvietà di questo estremismo delle sue posizioni naturalmente bisogna tenere a mente che molto spesso in queste tante apparizioni che questa formula trova si trovano anche quelle che giustamente sono considerate delle semplificazioni drastiche no assolutamente come dire insostenibili se uno se uno vuole andare un po' a fondo soprattutto con un'attitudine con l'attitudine che è quella degli strumenti filosofici questa specie di sequenza i famosi passi l'osservazione il concepimento di ipotesi il controllo eccetera sono una delle forme che prende il riferimento al metodo ancora in contesti informali di ampio di ampia circolazione ancora oggi e noi tutti sappiamo che non può essere questo quello di cui discutiamo su questo siamo tutti d'accordo ed era perfettamente chiaro anche allo stesso Feyerabend quindi da questo punto di vista serve per così fugare delle possibili equivoci notate comunque che quando si fa riferimento a questo livello di discussione vengono comunque fuori a volte delle cose interessanti per esempio questa specie di scetticismo sul metodo al quale voglio arrivare ha trovato comunque la sua strada anche nella cultura popolare in qualche modo questo è un fumettista bravissimo che conoscerete e che tra le altre cose ha raccontato ha fatto vedere questa divertente interessante contrapposizione fra quella che sarebbe la codifica che dicevo semplicistica del metodo scientifico e quello che qui viene caratterizzato come il metodo reale delle scienze che ha delle caratteristiche sì un po' dissacratò dissacranti però non prive di interesse per quello che viene dopo perché per esempio si parla di una cosa che suona così cioè modifica la teoria in modo da rincorrere da adeguarla ai dati invece che sottoporla alla prova dei dati che sarebbe stata l'indicazione la prescrizione appropriata a livello superiore e così via ci sono anche delle cose chiaramente più comiche però c'è una percezione non anche ad un livello più un po' più banale c'è una percezione di un disincanto cioè del fatto che quella storia lì non sta tanto in piedi la storia naturalmente era più era più ambiziosa e più ripulita di quello schema io vorrei provare a proporre questa caratterizzazione di quello di cui intendo parlare non è naturalmente una caratterizzazione originale ma serve un po' per chiarire l'orizzonte in cui ci muoviamo quello che intendo ragionare come una descrizione un'analisi filosofica del metodo consisterebbe in questo consisterebbe nella enunciazione di alcuni principi generali di alcuni principi generali non devono essere tutti alcuni principi generali che riguardano la valutazione delle teorie da un punto di vista razionale questo come si vedrà e non stupisce nessuno avviene principalmente sulla base anzi avviene essenzialmente sulla base di dati accessibili stabiliti alcuni principi generali della valutazione delle teorie da un punto di vista razionale e però devono avere due caratteristiche per essere interessanti questi principi da una parte non devono essere vacui che è uno dei problemi come vedremo cioè devono dire qualche cosa almeno qualche cosa e allo stesso tempo non devono essere troppo fumosi troppo vaghi devono avere queste due caratteristiche nel fare nel caratterizzare il metodo in questo modo naturalmente io sto diciamo mi porto dietro almeno in senso in senso ampio una discussione una distinzione fra scoperta e giustificazione anche questo è stato un tema molto controverso ma lo dico perché questa cosa non presuppone che esistano delle indicazioni operative che conducono all'identificazione di ipotesi buone su quello sappiamo diciamo io resta aperta la possibilità che di fatto è molto plausibile che le componenti che riguardano la scoperta il concepimento l'elaborazione dei contenuti resti al di là diciamo di indicazioni puntuali ben definiti possa essere estremamente contestuale estremamente flessibile ovviamente risente di tutte le possibili determinazioni storiche sociali che si possono immaginare tutto questo è previsto da questo punto di vista lo sapete benissimo c'è stata una specie di dissociazione cioè il progetto del metodo moderno per come se ne trova si trova più o meno in autori come Cartesio e Bacone tiene insieme queste due cose anzi si suppone che esista un percorso di identificazione di costruzione che è proprio lo stesso che poi garantisce il valore epistemico della teoria queste due cose non devono per forza stare insieme possono essere dissociate e quindi c'è un nucleo minimale che riguarda soltanto la valutazione che può essere per molti aspetti distinta concettualmente dalla costruzione e che è quello che ci importa veramente per così dire quindi qui sono cose che sono molto note sono trovato delle formulazioni famosissime in autori ultraclassici Popper Raschenbach altre ancora io qui tendenzialmente la recepisco anche perché è un elemento di sfondo di questa discussione ora oggi quella che sembrava una posizione estrema codificata da Feyerabend è diventata una posizione dominante è diventata una posizione dominante e questo è un fatto diciamo culturale e sociologico e questo fatto culturale e sociologico non riguarda soltanto i filosofi ci tengo ogni tanto a citare questo autore Weinberg che qui sta guardando con condiscendenza con disperazione ai suoi colleghi filosofi non è certo un simpaticone Weinberg però è una figura paradigmatica per molti aspetti un esponente di punta è stato un esponente di punta della fisica novecentesca tra le altre cose ha scritto questo testo è stato abbastanza prolifico di testi diciamo non tecnici che avevano anche componenti filosofiche storiche eccetera nelle quali tra l'altro maltrattava regolarmente i filosofi della scienza come saprete probabilmente ecco Weinberg per esempio è uno che lo dice molto chiaramente dice noi non abbiamo un metodo scientifico fisso noi intende i fisici intende gli scienziati e poi racconta questa storia che è esilarante a un certo punto lui dice di aver avuto questo scambio con un insegnante che la quale il quale gli raccontava come nella sua scuola invece che insegnare dei fatti scientifici si concentravano molto questa è la versione dell'insegnante nel tentativo di trasmettere gli aspetti di metodo che cosa consiste il metodo scientifico e Weinberg racconta di avere risposto a questa povera creatura che lui non aveva idea di quale fosse il metodo scientifico e che secondo lui era meglio che gli insegnassero i fatti scientifici e dice avrà pensato che ero rude ma guarda un po' però lui dice no è esattamente quello che intendevo dire perché la maggior parte dei scienziati non hanno non hanno idea di che cosa il metodo scientifico sia certo e questo fatto che non è il giusto Grazie. No, no, ma ora intendiamoci, ovviamente non siamo d'accordo, nel senso io non condivido la venerazione intellettuale, non condivido il fatto che ci sia della buona filosofia nel loro lavoro, però questo al limite è secondario, diciamo che non c'è, io tendo a pensare che, a parte la storia, a parte la storia dell'insegnante, io tendo a pensare che si trovi qui traccia di una cosa che intanto appunto non è pacifica, per quanto ne so, dentro, non è stata e non è ancora in parte pacifica nel mondo della scienza, cioè io effettivamente apprezzo la sensibilità perché qui Weinberg a me sembra che stia mettendo insieme una riflessione sulla sua conoscenza della sua scienza insieme con qualche cosa che in qualche modo emerge dalla riflessione storica e filosofica contemporanea, quindi si dimostra secondo me sensibile ad una, per questo che lo sto usando come esempio, per dire che non è una cosa che riguarda soltanto i filosofi, è una cosa che ha trovato la sua strada, prima vi ho fatto vedere il, diciamo, l'esempio della pubblicazione per bambini, però ci sono dei contesti magari un po' più, anzi sicuramente più elevati come questo, in cui questo atteggiamento, questa trasformazione di questo atteggiamento mi sembra che trovi espressione, quindi vabbè, secondo me sulla cosa che ci interessa siamo d'accordo, naturalmente in altri punti di questo testo, ce ne sono alcuni che citerò, Weinberg integra questa osservazione dicendo ci sono una serie di cose che noi facciamo e che hanno perfettamente senso, anche questa è una cosa che nessuno nega, però lui dice un metodo fisso, qualche cosa che corrisponda a quella caratterizzazione, qualche regola generale che sia chiara e non vacua, qui non viene riferito, poi però ci sono anche i filosofi, qui c'è una lista fantastica, questa qui è una filosofa della scienza che ha pubblicato nel 2019 questo libro molto bello, un libro bello, notevole, di interesse, io l'ho messo in programma perché per un accesso a temi classici di filosofia della scienza con un occhio abbastanza, come dire, aggiornato e molto ben costruito, lì sta parlando tra l'altro di Copernico, sta parlando della mancata osservazione della parallasse e sta dicendo una cosa che secondo me è falsa in quel TED Talk, ma non ho il tempo adesso di parlarne, tra le altre cose si trova questo, molto esplicito, al momento 2019 c'è ampio accordo fra gli storici, filosofi, sociologi, antropologi e la scienza che non c'è un singolo metodo scientifico, c'è, io lo interpreto, che non si riesce a soddisfare quella descrizione di cui parlavo e che la pratica scientifica consiste di comunità di persone che prendono decisioni per ragioni che sono sia empiriche che sia sociali usando una pluralità di metodi. Perfetto, questo è Stradens, questo è un testo che è del 2020, un testo un po' pop, diciamo così, molto ampio, molto ricco, sicuramente ci sono una serie di problemi importanti nelle enunciazioni filosofiche che si trovano nel testo, ma è fatto secondo me deliberatamente, nel senso che lui ha fatto la sua carriera di filosofo della scienza e poi ha deciso che voleva diventare un autore generalista e ha scritto questa macchina della conoscenza. Cosa si trova dentro il testo? Si fa riferimento ad una discussione, ad una controversia che è stata con il tempo avuto alti e bassi, è stata sommersa, poi è riemersa, poi è stata risommersa, che lui chiama il grande dibattito sul metodo e cosa succede in questo grande dibattito sul metodo? Succede che dei grandi pensatori hanno cercato di descrivere il metodo scientifico e sono arrivati a conclusioni opposte, più, più ancora, suscita ancora più perplessità il fatto che molti che hanno affrontato questo problema sono, anche con grande attenzione, sono giunti alla conclusione che non esiste una cosa come il metodo scientifico. Ok, quindi Feyerabend non è più una figura estrema. Questo lo devo a Adriano, l'ho scoperto due giorni fa questo libro di Kicera e ne ho fatto un uso intensivo in questa presentazione. Perché in questo testo Kicera, che è un filosofo della scienza, che si interroga sulla filosofia in generale, quindi ha un background che somiglia al nostro, diciamo così, dice delle cose molto simili, in modo molto esplicito, molto drastico, molto chiaro. Una, vabbè, non vi stupirà, è questa. Non esiste un metodo scientifico generale, overarching, che abbia una falche contenuto. Dice Kicera, ogni scienza è una pratica complessa, eccetera, eccetera, che condivide certe cose, certe caratteristiche con altre pratiche complesse, e che elabora i più generali, le tesi metodologiche più generali, che sono banali. Ok? Che sono banali. La cosa interessante è che questi, possiamo prendere le loro attività come delle specificazioni di queste tesi generali, ma la cosa interessante sono le specificazioni, non le tesi generali, perché le tesi generali sono banali, e lo fa in maniera, giustamente, per allinearle, per svilupparle, in riferimento alle particolarità, alle caratteristiche particolari delle materie pertinenti. Certo, sicuramente ci sono delle tesi generali che sono molto esili, molto esili, che possono essere presentate e difese. E queste sono state presentate e difese più che a sufficienza. Ok? Quello che si poteva dire, l'abbiamo detto, e quello che siamo riusciti a ottenere è una storia vaga. Ok? E non può essere che vaga, ed è ora di smetterla, perché fatevi una vita, trovatevi un mestiere, il suo suggerimento in questo testo è abbastanza esplicito, dice, lui, diciamo, si trova in linea con una tendenza molto, molto forte, che è quella della dissoluzione della filosofia della scienza generale, e la sua ricetta è cercatevi una scienza, studiatevi una scienza, se siete bravi ne studiate due, occupatevi dei problemi che emergono, da un punto di vista filosofico, con un'ottica, con gli studenti della filosofia, in quel tipo di lavoro lì. Cosa che, vorrei essere chiaro, che io considero sacrosanta, io mi guardo bene dal contestare che sia di straordinaria importanza approfondire, ampliare, arricchire questo lavoro in riferimento alle scienze speciali, come Kiccher le chiama, e tra l'altro, nel mio piccolo, mi è capitato di provare a farlo, in riferimento ad alcune discipline, le poche che riesco a maneggiare in maniera non del tutto indecente, chi c'è tra l'altro fa delle considerazioni divertenti, dice lasciate stare i fisici, perché i fisici tanto sono abituati a pensare che non hanno niente da imparare da nessuno, lasciate anche stare le scienze sociali, quelle un po' più disordinate, perché lì vengono fuori altri problemi, si fa fatica a mettere in piedi qualcosa di un po' duraturo, di un po' stabile, concentratevi nello spettro di mezzo della catena alimentare, e lui dice di aver trovato un terreno fecondo, ideale addirittura nella biologia, ma ne menziona alcune altre che sono. Ok, se voi andate sulla Stanford, e quello che c'è nella Stanford è vero, trovate una voce sul metodo scientifico, è fattiva, esatto, è scritto nella Stanford che è fattiva, è un operatore fattivo. Ora, cosa c'è scritto nella voce sul metodo scientifico della Stanford? C'è scritto questo, l'attività scientifica è troppo variegata attraverso discipline, tempi, spazi, cosicché qualunque tentativo di unificare dal punto di vista metodologico questa diversa attività o diventa una rincorsa dei dettagli, quindi le metti insieme tutte quante, le racconti tutte quante, e ovviamente questo non produce una particolare comprensione di interesse filosofico, oppure sono delle generalizzazioni banali. Questo è scritto nella voce dedicata, quindi vuol proprio dire che i tempi sono cambiati, che non c'è più speranza. Non lo conosco questo collega, non ricordo il suo nome a memoria, pensavo fosse scritto, ma invece no, te lo devo cercare, con pazienza. Te lo devo cercare, per ignoranza, sicuramente. Diciamo, nella voce si insiste molto su un approccio che lui chiama un po' naturalistico, cioè quello di studiare le pratiche, no? E questo è quello che, intorno a cui si costruisce un po' la narrazione della voce. Ok, come siamo arrivati fino a qui? Come siamo arrivati da Feyerabend a Kitschel, eccetera? Allora, fatemi fare un riassunto e questo è il punto di oggi, non ho molto altro da offrirvi. Mi sembra che valga la pena, anche se uno poi non ha voglia di sovvertire questa tendenza, mi sembra che possa valer la pena provare a chiedersi idee di quali sono le più convincenti premesse di un percorso di questo tipo. Ok, sì, sì. Non le ricordavo a memoria, ma le avevo provate a... Grazie. Oh, nel far questo, naturalmente, io vi do la mia versione di come siamo andati fino a qui, ve la propongo e poi dopo, se mancano dei pezzi, me lo direi. Allora, parto veramente da zero, provando a presentare quelli che, secondo me, come faccio quando faccio con gli studenti, per voi sarà sicuramente superfluo, ma quello che io considero due premesse, e sono due scoperte metodologiche, io credo sia giusto chiamarle scoperte metodologiche, che sono di carattere negativo, sono due scoperte di carattere negativo, una famosissima, l'altra molto famosa, che ci dicono che cosa il metodo non può essere, e quindi ci scoraggiano da seguire alcune idee che potrebbero essere molto attraenti. Le voglio chiamare scoperte, e sicuramente a queste scoperte hanno contribuito dei filosofi, non voglio dire che siano stati gli unici a vedere questa cosa, questo è probabilmente falso, diciamo, la filosofia ha dato poi una formulazione generale a queste considerazioni, che probabilmente sono emerse molto presto tra le persone che si occupavano in qualche modo di scienza, a qualche titolo, in qualche momento dell'evoluzione storica delle conoscenze. Qui una cosa importante che bisogna tenere a mente è che quando uso il termine teoria, non ne do una caratterizzazione formale di questi termini, è tutto abbastanza informale, però il livello di chiarezza deve essere sufficiente per i nostri scopi. Stiamo parlando di quel tipo di teoria delle quali ci interessiamo nelle scienze, con quelle caratteristiche che tipicamente sono teorie informative, le vogliamo che siano ricche di contenuto in qualche senso, anche se anche qui non ti sto dando una definizione formale, sono teorie che vanno al di là, questa è di nuovo una formulazione molto approssimativa, vanno al di là di ciò che ci è direttamente accessibile, spesso proprio dal punto di vista concettuale, è una delle cose che, il tipo di teorie che ci importano nelle scienze. Un'altra premessa di quello che sto per dire è un orientamento epistemologico di tipo empirista in senso lato, cioè si suppone che i punti d'appoggio più solidi su cui costruire la conoscenza vengano dall'osservazione dell'esperienza, una cosa che sembra abbastanza banale ma va la pena di precisarla. Ok, fatte queste precisazioni c'è un primo fatto metodologico che sappiamo, e cioè che noi non possiamo aspettarci di dedurre le teorie da stati di cose che sono stati stabiliti attraverso l'osservazione. Questa è una cosa che si trova spiegata e formulata, in parte formalizzata in molti posti, ma sicuramente Hume è un autore, un grande classico, sicuramente un po' per questa cosa ritorna e va bene, non c'è problema. Tutti siamo d'accordo su questo. O c'è una seconda cosa che, anche questa è importante, non è proprio identica alla prima, anzi non è identica alla prima, ci sono in parte dei collegamenti fra le due cose, ma dal punto di vista, nel senso stretto, non sono identiche. E questa seconda cosa dice questo, dice che se uno ha una teoria e ha certi dati empiricamente stabiliti, è sempre possibile stabilire un collegamento logico fra la teoria e questi dati, perché? Perché la teoria in se stessa, quella che ha quelle caratteristiche di generalità, di arricchimento concettuale non ha un collegamento logico diretto. Per stabilire un collegamento logico fra la teoria e questi, quello che abbiamo potuto stabilire attraverso l'osservazione, ci vogliono degli elementi aggiuntivi, delle assunzioni aggiuntive, grossolanamente indicate come ipotesi ausiliarie, e se uno va a cercare delle ipotesi ausiliarie del tipo giusto, sarà in grado di concatenare la teoria con i fenomeni, con i dati. Questo vuol dire in particolare, dal punto di vista, questo ne ho dato una formulazione logica molto generale, ma naturalmente dal punto di vista della storia della scienza e della scienza reale, significa che effettivamente quando uno ha una teoria che ha una bella pulito collegamento con i dati attraverso delle belle ipotesi ausiliarie, si deve aspettare che sia possibile, e in alcuni casi è effettivamente così, che ci sia qualche altra teoria che può fare la stessa cosa, a condizione di utilizzare appunto delle ipotesi ausiliarie opportunamente identificate. Ok, sì, sì, il punto 1 io lo direi così, supponiamo di avere dei fatti, una lista di fatti, che chiamiamo, o di dati si preferisce, che sono stati stabiliti attraverso l'osservazione, qualunque cosa esattamente questo voglia dire, noi li consideriamo sostanzialmente acquisiti. Ok? Il genere di teorie che a noi interessano nella scienza hanno questa caratteristica, non possiamo aspettarci che questa base di premesse ci permetta di far derivare con certezza quella teoria che ne parla. questo vuol dire che non possiamo aspettarci che i dati siano sufficienti ad escludere una alternativa a quella lì. Quindi vuol dire che è proprio una cosa, un modo per riformularla, se uno mette a punto la terminologia, se preferisce uno può farla così, le teorie scientifiche non sono verificabili nemmeno indirettamente, nemmeno attraverso un passo inferenziale che appoggia su dei fatti accertati. Quindi non è niente di più di questo, è una formulazione del problema dell'induzione, cioè lo sto solo riformulando in maniera che ci interessa per i nostri scopi. O a proposito di Weinberg, a proposito del fatto che si trovano in Weinberg delle frammenti utili di contenuti filosofici che riguardano il metodo, questo è uno dei saggi raccolti nello stesso libro in cui si parla di Kuhn e Weinberg dice ogni set di data può essere, come dire, fittato, si può accomodare da diverse teorie. Questo è il punto 2, essenzialmente tradotto in parole in un contesto un pochino più, un po' meno astratto. Weinberg, tra l'altro, evidentemente a un certo punto ha deciso che voleva studiarselo, nota che questa osservazione che si trova, che lui rileva in Kuhn, perché è vero che in Kuhn svolge un ruolo importante, ma in effetti ad averla formulata meglio, prima e anche in modo un po' più sobrio e tagliente, c'era stato almeno 2M che qui viene citato. Ok, ora il punto 1 ci dice che il metodo non può consistere, quindi la proposta di rappresentazione di quei criteri per la valutazione non può consistere nella richiesta che le teorie siano dimostrate a partire da fenomeni dati stabiliti, verificati. Questa idea del metodo è inattingibile. Ovviamente se ne trovano tracce nella storia del pensiero per vari motivi, sui quali non possiamo dilungarci, ma che le cose stiano così non è un punto di discussione e la mia idea è che chiunque abbia fatto seriamente un lavoro scientifico da Anasagora in poi, in realtà questa cosa l'abbia vista, casomai non l'ha scritta in questa forma per vari motivi, però. Ok, il secondo punto dice un'altra, implica un'altra cosa non meno importante, anzi più importante, e cioè che, più importante perché ha conseguenze più complicate per i nostri scopi, e cioè che l'idea di limitarsi a salvare i fenomeni, come un criterio di bontà, di credibilità di una teoria, se quella è l'unica cosa che noi richiediamo ad una teoria per dichiarare che trova sostegno nei dati corrispondenti, allora questa idea, questa formulazione di cosa il metodo sarebbe, salvare i fenomeni e basta, genera un mostruoso problema di sottodeterminazione. Mettendo insieme, io mi permetto di essere un po' pedante su questo, per ottenere questo gigantesco problema di sottodeterminazione, cioè vuol dire sono troppe a quel punto le teorie che risultano essere buone e quindi nessuna lo è, questa è la sottodeterminazione, ok, per ottenere questo gigantesco problema di sottodeterminazione bisogna mettere insieme due ingredienti, uno è un ingrediente acclarato, sostanzialmente acclarato, cioè il punto due, che è una scoperta metodologica, bisogna mettere insieme a quello anche una proposta di che cosa il metodo è, cioè se tu aggiungi a due l'idea che il metodo sia soltanto salvare i fenomeni, cioè i dati che confermano sono quelli salvati da una teoria e basta, e tutti, allora se metti insieme queste due cose questo produce questa esplosione della sottodeterminazione delle teorie sulla base dei dati. Il risultato è che praticamente ogni teoria sarà confermata, perché praticamente ogni teoria è in grado di essere riconciliata con i dati se sono libero di concepire, e devo farlo, delle ipotesi ausiliarie per stabilire un collegamento fra queste due cose, e quindi questa idea del metodo risulta effettivamente vacua. Ok, va bene. Sono due cose, diciamo, niente di nuovo, sono cose proprio da... Sì. Eh, ma l'idea qua è che adesso si può discutere, forse questa formulazione pecca un po' di uno spirito sistematico, filosofico, che si potrebbe anche ammorbidire, ma il ragionamento è che la generazione delle ipotesi, la generazione delle ipotesi ausiliarie fino al punto in cui siamo arrivati è una attività che da una parte è necessaria, perché altrimenti non c'è nessun logico, e dall'altra parte è completamente non vincolata. Questo è il motivo per cui... Sto supponendo che non abbiamo imposto nessun'altra restrizione, perché questo è quello che questa scoperta mette in evidenza. Poi dopo uno può dire no, attenzione, ma non è così. Certo che lo capisco. No, 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 no. Infatti questo è solo il punto di partenza. Non finisce qui la storia. Diciamo, queste sono due premesse della... Sì. Questa è una restrizione perfettamente... Se così vi torna potete leggerla così senza problemi. Certo, perché uno per ottenere questa universalità deve usare dei trucchi logici, qualcuno giustamente dice deve usare degli argomenti più realistici. Insomma, comunque la cosa che ci importa più o meno l'abbiamo capita. Ok, perfetto. Attenzione, salvare i fenomeni io non lo uso. Ok, questa è una cosa molto importante. Come sapete salvare i fenomeni è uno slogan della tradizione antirealista in filosofia della scienza. Io qui gli do un significato ristretto, cioè una cosa che si trova nella tradizione antirealista ma che voglio isolare. Cioè, quello che sto dicendo è è una teoria del metodo che dice perché un dato confermi la teoria basta che ne derivi logicamente. Dove noi sappiamo dal punto 2 che per derivare logicamente ci sarà bisogno di ipotesi ausiliari. Se questa è la teoria... quindi vuol dire che i dati che confermano sono tutti quelli salvati. Ma poiché ogni teoria si tratta soltanto di lavorarci su sarà in grado di riconciliare i dati e di salvarli tutti si ottiene questa proliferazione della conferma. Questa è la mia idea. Quindi salvare i fenomeni non indica può essere... è compatibile con un orientamento realista generale. Certamente che essendo così debole la nozione di conferma che ne viene fuori la lista si trova nei guai ma questo però è indipendente dal mio punto. Salvare i fenomeni intendo dire è quel modo di precisare quel pacchetto di principi che si limita a dire se volete potete chiamarlo possiamo chiamarlo è il modello ipotetico-deduttivo ingenuo. Quello che dice basta soltanto far derivare i fenomeni e quella è l'unica cosa che conta per avere conferma delle ipotesi. Ok? Questo è quello che intendevo dire. Grazie delle domande tutte molto pertinenti. Ok, questo è solo il punto di partenza. Io sto facendo una ricostruzione razionale della filosofia e della scienza contemporanea. Cosa si fa? Supponiamo che sia vero che a un certo punto tutti avranno le idee chiare su questo. Non è completamente vero ma è quasi vero. Ok, cosa si fa? Cosa si fa? Ok, vi presento due sbocchi di questa situazione che a me sembra certamente ci sono delle importanti semplificazioni ma a me sembra che siano quelli che hanno avuto i maggiori effetti e che hanno concorso a determinare la famosa questione del disincanto del metodo. Ok, la prima strada è questa. Ok, siamo d'accordo, non può essere che tutti i fenomeni salvati confermano, certo, perché altrimenti abbiamo questo problema qua. Ok, cosa si fa? Si deve cercare un sottoinsieme, una frazione, una frazione molto specifica, soltanto una frazione molto specifica dei fenomeni salvati produce conferma. Ok, e tradizionalmente la formula, la ricetta è stata quella di enunciare una forma di predittivismo molto radicale, io che lo chiamo radicale perché mancanza di meglio, che dice semplicemente beh, soltanto quelli che si sono conseguenze logiche della teoria e sono anche veri, ok, ma questo non basta, devono essere stati previsti in anticipo. questo è quello che conta. Se sono stati previsti in anticipo una volta che vengono stabiliti diversamente da tutti gli altri possono svolgere quel ruolo inferenziale di dare sostegno alla teoria e allora se uno fa questo questo panorama cambia drasticamente, cioè di tutti questi fenomeni salvati o salvabili no? Non esiste che tutti quanti questi ci danno indizi sulla credibilità della teoria, no, sono soltanto una piccolissima, rarissima sotto insieme quelli che ci danno questa, che godono di questa proprietà e questo vuole anche dire che a questo punto non mi importa del fatto che ci siano tante teorie che possono salvare tutto, l'importante è se sono tante teorie che hanno previsto delle cose che poi si sono verificate e questo non è affatto scontato né per ragioni logiche né per ragioni storiche, anzi è infrequente, la situazione più frequente è che quando c'è una pluralità di teorie in riferimento ad un dominio di fenomeni è molto difficile che entrambe può capitare ogni tanto che entrambe prevedano in anticipo e con successo un certo nuovo fenomeno osservato, la norma è che una delle due la prevede e l'altra delle due lo recupera attraverso le ipotesi osiliarie ma allora quelli lì non confermano entrambe in questa versione confermano solo la prima quella che la ha previsto quindi è un rafforzamento molto molto significativo di quel criterio prima che ha come sua conseguenza di neutralizzare drasticamente questa sottodeterminazione ok? il problema viene quasi rovesciato cioè il problema diventa quanto è raro che ci sia davvero conferma perché queste previsioni sono occasioni sensazionali d'accordo? questo è il risultato notate che questa modalità di interpretare questa relazione qui è estremamente congeniale con la nozione di esperimento perché un esperimento viene progettato in anticipo sulla base della fissazione della manipolazione di certe condizioni iniziali sulla base delle quali si può fare una previsione più sorprendente la previsione più interessante l'esperimento e a quel punto quello produce questo genere di conferma se poi una teoria alternativa riesce a raccontare a venire a capo con una sua storia di questo risultato cosa che sicuramente può succedere non importa perché quella teoria non l'aveva prevista questa teoria naturalmente ha dei nomi e cognomi adesso l'ho presentata in una forma completamente generale per mille motivi ovviamente se ne trova traccia in Popper il quale però come sapete litiga con la nozione di conferma quindi insomma ci sarebbero da fare un sacco di precisazioni però è chiaro che Popper è un predittivista di questo tipo per certi aspetti riguardo ai criteri di valutazione lui sembra enunciare in modo molto esplicito proprio questo è una cosa che si trova molto esplicita anche in Lakatos nei lavori diciamo maturi ma i primi importanti lavori che presentano è un predittivista Lakatos parla da questo punto di vista recepisce la tradizione popperiana questa formulazione è anche quella che consegue da un'interpretazione del modello baesiano del ragionamento scientifico che se vogliamo è quella da manuale quella in cui i gradi di probabilità rappresentano direttamente le credenze attuali i gradi di credenze attuali per cui uno dice cosa deve succedere perché ci sia un incremento della probabilità della teoria deve succedere che il dato che la conferma non deve avere già probabilità uno deve essere un elemento di incertezza perché il teorema non ti dà non ti dà un incremento lo si dimostra quindi per un baesiano rappresentato in questo modo molto schematico estremamente schematico appunto manualistico questa cosa qui in un certo senso è molto naturale è quasi dimostrabile diciamo per quella interpretazione del formalismo si ottiene esattamente questo deve esserci un grado di credenza nel fatto che conferma che inizialmente è inferiore a 1 solo a queste condizioni la sua scoperta la sua verificazione la sua acquisizione produce un effetto positivo di aumento della credibilità dell'ipotesi o questo approccio genera un gigantesco problema della vecchia evidenza ok perché genera un gigantesco problema della vecchia evidenza dunque la buona notizia è che viene drasticamente neutralizzato questo problema della sottodeterminazione ok non esiste più che tutti i fenomeni salvati confermano assolutamente la maggior parte dei fenomeni salvati saranno stati accomodati e probabilmente non confermeranno un tubo di niente ok o quasi niente magari hanno un minimo un minimo ruolo di plausibilità minimale della teoria però quello che davvero fa il lavoro dal punto di vista dell'analisi metodologica sono soltanto le previsioni di successo dove previsioni si intende il senso più come dire terra terra di una cosa che è stata che non era stata ancora osservata ora tutte queste cose qua non solo quella vaesiana anche quella popperiana anche quella la cattusciana l'etichetta di problemi della vecchia evidenza attaccata alla proposta baesiana e a delle ragioni storiche ha una base anche tecnica ma è per molti aspetti fuorviante la prima enunciazione secondo me la prima enunciazione del problema della vecchia evidenza non è stata rivolta contro i baesiani è stata rivolta contro il predittivismo di Lakatos e l'ha formulata ZAR che era un suo collaboratore all'inizio degli anni 70 non Glimur nel 1980 Glimur nel 1980 l'ha usata contro i baesiani perché genera questo enorme problema della vecchia evidenza perché c'è un'enormità di casi nei quali noi vogliamo dire che c'è conferma ma non c'è previsione in questo senso un'enormità di casi Warhol che io userò e che sto già usando insomma come una mia guida quindi anche lì chi lo conosce ritroverà questa che sto scopiazzando fa una lista di tre esempi in un articolo importante del 2002 molto chiaro uno dei migliori e più lucidi per costruire questo scenario gli esempi che fa sono esempi che avete già sentito però è interessante che ne voglia presentare tre per i miei scopi il primo è quello di Einstein e Mercurio per cui il perielio anomalo di Mercurio era un fatto già noto che è stato interpretato come tale da dare sostegno alla teoria di Einstein ok il secondo è un caso che sul quale diciamo Warren si è dilungato a sfinimento che è quello dell'ottica ondulatoria della teoria matematica ondulatoria formulata da Fresnel in riferimento al fenomeno della diffrazione che quello era un fenomeno noto e che sfuggirebbe a questa caratterizzazione non viene previsto certo lo sapevano già che esisteva la diffrazione e c'era già un resoconto colpiscolarista naturalmente la teoria alternativa aveva già messo in moto le ipotesi usiliarie più di uno per la verità più di un resoconto colpiscolarista l'altro esempio che Burrell fa è Copernico e parla in particolare di penetti interni di Veneto questi sono tutti i casi nei quali l'idea è questa noi vogliamo avere una teoria che li rappresenta come casi di conferma non perché sono fenomeni accomodati salvati in generale ma perché devono perché hanno qualcosa di più hanno qualcosa di più e però non sono previsti in questo senso temporale quindi allora che cosa come facciamo questi casi un'enorme fetta della storia della scienza anche i passaggi progressivi e meno controversi è stracolma di casi di questo genere se voi ci pensate una delle cose più folli della storia della storiografia popperiana e che spinge l'aveva messo in luce a suo tempo credo Agassi e che spinge lo storico ad andare a cercare queste nuove provisioni sostanziali ogni volta che una teoria cambia ma noi sappiamo che non è così ci sono enormi casi giganteschi di avvicendamento di discussione molto intensa e controversa sulla qualità di una teoria nuova dove i dati nuovi non ce ne sono per decenni per decenni se anche se è vero che Newton ci ha messo magari 50-100 anni per acquisire una posizione dominante non ci sono dubbi che al momento in cui i principi vengono presentati ci sono degli elementi di successo di quella teoria che vengono immediatamente rilevati non c'è bisogno di dire che la teoria prevale immediatamente ci sono degli elementi di conferma dai dati tutti sono tutti d'accordo che la spiegazione delle maree è un successo era un fenomeno nuovo? no sono tutti d'accordo che la derivazione delle orbite di Kepler è un successo era un fenomeno nuovo? no non c'è stata nessuna previsione tecnicamente nessuna nuova previsione newtoniana per alcuni decenni noi sappiamo che c'è la cometa di Halle ce ne saranno state alcune altre ma di certo non c'è stato bisogno di aspettare quel momento perché la teoria attirasse attenzione per alcuni successi confermatori che sono indiscutibili ma questo vale per tutti Darwin Darwin quando è che ha prodotto delle nuove previsioni? a un certo punto ha prodotto delle nuove previsioni dei fenomeni veri nuovi inattesi che sono stati effettivamente osservati solo dopo ma quanto c'è voluto perché succedesse? non può essere quella la base di quella discussione razionale se la vogliamo razionalizzare ma questo vale per tutto vale anche per Udosso per esempio Udosso è una teoria quella di Udosso che non abbiamo che si è imposta Aristotele l'accettata e certamente il motivo iniziale non può essere stato che c'erano dei nuovi fenomeni io personalmente penso che valga anche per il caso di Copernico ma è un punto completamente generale se voi pensate a delle discipline nelle quali le previsioni sono particolarmente difficili perché sono discipline non sperimentali come la scienza del clima e cosa vuol dire? la buttiamo a mare vuol dire che non si può fare nessuna valutazione metodologica di quelle teorie di quelle ipotesi per il fatto che non si verificano queste condizioni estremamente esigenti che sono state imposte quindi che siano esigenti servono per neutralizzare la sottoterminazione perché salvare i fenomeni era troppo generoso certo la direzione è quella giusta ma si tratta di una mossa assolutamente drastica che genera questo gigantesco problema della vecchia evidenza sì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no no ma infatti attenzione lamentela qui non è che le previsioni di questo tipo non sono dei casi di conferma sensazionali siamo tutti d'accordo che lo sono e che si tratta e che si tratta di una di una di una una sticella irragionevolmente alta irragionevolmente alta che ci costringe dal punto di vista ovviamente gli scienziati continuano a infischiarsene ma dal punto di vista di una teoria filosofica del metodo ci costringe ad accettare delle conseguenze che sono estremamente implausibili cioè per esempio che fino a almeno all'eclissi Einstein non aveva nessun elemento di supporto che fino almeno alla cometa di Halley o quel che è Newton non aveva la teoria di Newtoniana valeva come un qualunque accomodamento dei fenomeni questo non insomma mi sembra che sia molto forte la resistenza ad accettare questo poi uno può decidere che vuole essere talebano e dire no è solo così e le altre valgono zero però no certo certo sì 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 ma infatti no 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 ma infatti io non voglio minimamente dare l'impressione del fatto che quando ci sono state le nuove previsioni discriminanti non abbiano svolto un ruolo decisivo il punto è se questa teoria dice che prima di allora non è successo niente in alcuni casi mi sembra veramente un io lo considero ma non è una mia tesi lo sto riportando come mi sembra un elemento del quadro dialettico nel farlo vi confesso ve l'ho già detto che mi che seguo per esempio la ricostruzione in parte la ricostruzione che si trova in un autore come Warren ok cos'altro c'è sul mercato cos'altro c'è sul mercato ecco un'altra cosa che c'è sul mercato per come io la voglio presentare definire funziona in modo diverso secondo me è concettualmente diversa e l'idea è questa no 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 vabbè salvare i fenomeni sì è vero è troppo poco ok dobbiamo non dobbiamo tanto diciamo restringere non è tanto questione di restringere la 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 selezione l'identificazione dei dati empirici pertinenti no quello che facciamo è ampliare integrare integrare questo requisito di recuperare di riuscire a salvare i fenomeni con la valutazione di alcune caratteristiche delle teorie che chiamiamo virtuteoriche ok delle proprietà in qualche senso meta empiriche perché si applicano a teorie le quali rispetto ai fenomeni sono in grado di come dire mettersi in pari così dire in qualche o sarebbero in grado magari non viene neanche fatto appunto perché magari non godono di queste proprietà quello che poi interviene a restringere a moderare a domare il problema della sottodeterminazione sarebbe la valutazione di caratteristiche di questo tipo che si aggiungono diciamo così alla capacità di allinearsi con i fenomeni virtuteoriche ora Weinberg continuo a citare lui perché mi serve sempre per dire che c'è un ancoraggio con la realtà lo uso un po' come oracolo ma sono dell'idea che sia rappresentativa cioè le cose che voi trovate in quel libro sono delle versioni un po' ripulite a volte leggermente pungenti di cose che si trovano in molti altri posti anche se vi mettete a parlare con i fisici o con i si che so gli economisti o qualche quindi il passo è lo stesso che ho citato prima dove ho fatto una piccola interpolazione una piccola diciamo omissione dice Weinberg il passo è sempre lo stesso ogni set di data può essere recuperato da diverse teorie quando dobbiamo decidere da fare queste teorie dobbiamo valutare quali di loro hanno quel tipo di eleganza e di consistenza e di universalità che le rende meritevoli di essere prese sul serio ok come sapete lo zoo delle virtù teoriche e il lessico delle virtù teoriche è enormemente ricco ci sono dei grandi classici come la semplicità con l'eleganza i fisici l'eleganza la usano come il prezzemolo e ce ne sono altre che sono un pochino più meno scontate che sono state proposte discusse ci sono c'è tutta una industria diciamo apposita nel tentativo di domare questa pluralità di caratteristiche di capire in che senso possono essere un po' rifinite un po' scomposte fra di loro eccetera perfetto questa questa variante qua è una variante che trova anche una formulazione solo per capirsi non è che sia necessaria ma serve per chiarirsi un po' le idee cioè uno ha una lista di attributi ok la teoria è la t vogliamo arrivare a determinare qualcosa di simile ad una stima del suo valore epistemico se vogliamo possiamo decidere che vogliamo dire che è la sua credibilità oppure possiamo decidere che è qualcosa di un po' più complesso non importa è un criterio di valutazione diciamo sintetico generale come lo come lo generiamo come lo generiamo beh lo generiamo integrando fra di loro quelle che sono le caratteristiche pertinenti di quel tipo lì no e cosa ci serve per farlo questo è importante concettualmente non è importante il formalismo è importante concettualmente ci serve da una parte la valutazione che risponde alla domanda in quale misura questa teoria soddisfa questo requisito ok quanto è semplice idealmente sarà un valore in un caso come dire estremamente astratto sarà un valore quanto è semplice ok quindi l'assegnazione di un valore a quella teoria su quella dimensione e poi su un'altra dimensione l'altra dimensione sarà quanto è compatibile con teorie parenti cose così ce ne sono diverse è una lista più o meno lunga qualcuno dice che sono pochi qualcuno dice che sono tantissimi non importa quello che bisognerà avere idealmente bisognerebbe avere queste queste assegnazioni di valore poi questo non basta naturalmente bisogna anche dare un peso a queste diverse caratteristiche possono essere tutte quante ugualmente importanti oppure possiamo ritenere che sono più importanti alcune rispetto ad altre ok questa equazione dice questa semplicemente un'equazione di calcolo di una se volete un'utilità multiatributiva molto semplice ci sono una serie di criteri desiderabili che vengono misurati uno per uno e poi vengono integrati sulla base di una assegnazione di importanza ok fantastico è scritto in in formula ma è essenzialmente quello che trovate nel famoso articolo di Kuhn sulla scelta teorica degli anni 70 oggettività eccetera razionalità scelta fra teorie Kuhn dice ma certo che esistono avete detto che io ero un irrazionalista che diceva che era una conversione religiosa ma no ma lo so anch'io che esistono delle cose che gli scienziati importano la lista comprende per esempio queste cinque magari qualcuno ne può aggiungere una qualcuno ne può rifinire un'altra e dopodiché di volta in volta si discuterà di quanto viene di quanto vengono soddisfatti diversi requisiti e di quanto è importante soddisfare l'uno e l'altro cercando con ciò di generare una valutazione complessiva della teoria perfetto vi faccio presente che anche di questo esiste una versione baesiana qui l'ho scritto in forma di tira usando i logaritmi degli odds perché così viene proprio il più ma comunque quello che trovate questa è una versione del teorema di baes comparativa che si trova in un famoso articolo di salmon degli anni 90 quella a sinistra è il logaritmo degli odds comparativi di due teorie t1 e t2 condizionate ad e e a destra trovate il prior il primo addendo sempre nel confronto fra i due e poi trovate una variante del rapporto di verosimiglianza sempre comparativa fra le due teorie perché in quell'articolo salmon ci tiene molto a dire che i suoi giudizi sono comparativi ma uno potrebbe anche fregarsene se un baesiano un po' più disinvolto lo mette in riferimento ad una sola teoria non se ne preoccupa però salmon è molto è molto attento a questa cosa qua ora questo è chiaramente un modello additivo ci sono due fattori che vengono sommati e determinano quello che per il baesiano è il criterio di valutazione dal puntista confermatorio cioè una quantificazione della credibilità dell'ipotesi in particolare nel confronto fra uno e due ok ha una analogia formale che non è casuale perché questo è un caso speciale in cui non ci sono i pesi perché il teorema dice che i pesi sono equivalenti e ci sono due proprietà una delle quali riguarda prevalentemente il rapporto fra le teorie e i dati quella di destra e la food ratio è una misura della conferma nel senso della rilevanza del fit se volete rispetto ai dati di compare l'evidenza e l'altro dei due quello che sta a sinistra nel linguaggio dei baesiani descrive la teoria sono l'analogo delle probabilità a priori sono questi due elementi si mettono insieme si sommano e si produce un indice della credibilità della teoria quindi esiste una variante baesiana che è un caso speciale caso speciale quello sotto è un caso speciale molto semplice ed esiste già in letteratura è stata discussa formulata eccetera ok questi sono i due testi che ho menzionato e sono due grandi classici della letteratura che tengono un po' traccia di questa evoluzione storica a distanza di anni in un periodo cruciale che è quello che era gli anni 70 agli anni 90 e un po' dopo di questa storia qua ho questa teoria molto attributiva della scelta che sicuramente concettualmente e tecnicamente diversa da quel predittivismo di cui parlavo prima è molto presente se ne trovano formulazioni in una enorme quantità di posti diversi anzi se c'è qualcuno che ha una sensibilità filosofica e ha una cultura filosofica magari non è neanche un filosofo della scienza o magari sì non importa può anche essere uno che fa un filosofo delle scienze speciali facilissimo che succeda che magari specializzate in quello se gli capita di dover parlare del metodo ok ovviamente questa persona è al corrente del fatto che la barzelletta della sequenza dei passi è soltanto una barzelletta si è costretto a dedicare qualche riga di testo al metodo racconterà questa storia qua questa è la storia che racconterà dirà che ci sono delle proprietà tra le quali quello del successo empirico ce ne sono altre e che il ragionamento scientifico la valutazione della teoria consiste in un bilanciamento in una questa è la storia che racconterà quell'equazione lì racconterà anche oggi ok che racconterà che racconterà Vallo a dire, vallo a dire ai fisici. No, no, è una cosa molto interessante questa, è uno dei grandi problemi. Cerco di tornarci perché c'è un punto preciso in cui ne ho bisogno. No, 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 assolutamente. Io non ho nessuna intenzione di dire, al contrario casomai. Ci torno, se non ti soddisfa ci ne riparliamo. Ok, problema, problema. Ma il Kuhn l'ha detto in modo molto esplicito. Non vi aspettate che io vi dica che ci sono dei criteri per fissarsi i numeri. Non vi aspettate che ci sia un qualche scienziato che dice esplicitamente quanto è semplice questo e confronto a quella e che poi dopo si possono mettere d'accordo e fissare in maniera condivisa, più o meno oggettiva, questa roba qua. È completamente fuori discussione. Non solo, ma già questo basterebbe, ma c'è ancora di più. Cioè non vi dovete aspettare che qualcuno vi dica come sono fatti questi pesi. È completamente plausibile supporre che in una controversia fra teorie c'è uno che dice no, no, è fondamentale il livello di semplicità e l'altro dice no, ascolta, quello lì va bene, ma mi importa il giusto perché in realtà è più importante. Ok? Quindi ci sono casi macroscopici in cui apparentemente emergono queste divergenze, il che significa che il contenuto di questa formula, il contenuto operativo di questa formula è molto, molto, molto debole. Possono esserci dei casi banali di dominanza in cui sono tutti d'accordo che tutte le proprietà sono soddisfatte meglio dalla teoria 1 rispetto alla teoria 2, allora non ci importa di nient'altro. Ma siccome quelli che ci importano non sono così, con questa formula non ci possiamo fare nient'altro che raccontare una storia verbale, a cui si può dare una forma anche elegante e rigorosa, ma resta più o meno una storia. Ok? Notate che la versione baesiana qui è molto interessante perché, come giustamente fa notare Enzo, questo nel testo di Salmon, che è densissimo, è anche un progetto completamente fallito, però è comunque affascinante, nel testo di Salmon è molto presente questa cosa. Salmon dice, si ascolta però queste virtù, perché Salmon è in mente proprio Kun, sta cercando di rendere baesiano Kun, sta cercando di addomesticarlo un po'. Dice, sì ma queste virtù teoriche in realtà sono un po' un pasticcio, sono una gran quantità di cose fra loro differenti. Cerchiamo innanzitutto di cominciare a scomporle. E lui chiama, secondo me, quelle che nel tuo linguaggio, io credo che sia una corrispondenza sensata, quelle che tu hai detto sono serie, che hanno un impatto, lui le chiama virtù proprio confermatorie. Virtù confermatorie, cioè tali che hanno una rilevanza epistemica in senso stretto, che riguardano effettivamente la credibilità. Alcune virtù o alcune componenti di queste virtù possono andare a finire in quella scatola. Lui dice però ci sono molte altre cose che non hanno questa connotazione confermatoria, possono avere una connotazione pragmatica, per esempio, nella quale possiamo far rientrare anche la comprensibilità, se vuoi, la semplicità di utilizzo, quelle vanno messe da un'altra parte, no? E' per questo motivo che Salmon dice, guardate che dentro quel numero lì io voglio rappresentare nel prior soltanto quelle che hanno rilevanza confermatoria. Per esempio per Salmon la semplicità in un certo senso ce l'ha. E Salmon dice tutte queste qui, che sono delle virtù teoriche, che in più rientrano in questa sottocategoria delle virtù che hanno rilevanza confermatoria, lui dice il bayesiano dove le mette? Le mette nei prior. E a quel punto si apre la scatola dei prior. E Salmon in quell'articolo fa il tentativo eroico di dare una interpretazione frequentista, non sto a farla lunga perché è un'operazione molto complessa, eroica, affascinante, lodevole, però molto difficile da tenere in piedi. Ma come voi sapete, la sensazione dei prior è un problema che è considerato irrisolto e profondissimo in tutta l'analisi bayesiana della scienza. Quindi non c'è da sorprendersi del fatto che questa versione di quella cosa che l'ha sopra, che potrebbe dare qualche speranza in più, in realtà si trova alla fine esattamente negli stessi guai. Cioè una volta che uno non ha un punto d'appoggio per identificare quel valore lì, che deve condensare un'enormità di caratteristiche pertinenti per la scelta fra teorie, va bene, hai un algoritmo nel linguaggio di Salmon ed è bello da vedere, è bello sapere che esiste perché ne possiamo discutere, però quella questione di dare mordente, di dare contenuto all'analisi del metodo, non viene in questo modo soddisfatta. Quindi questo tipo di balesiano si trova diversamente dal predittivista, questo modo di usare il formalismo si trova in una situazione completamente paragonabile a quella del multiattributivista semplice. Ok, quindi se noi vogliamo decidere se Kitcher ha ragione, secondo me ci dobbiamo chiedere quali sono le conclusioni di questo stato delle cose. Lo stato delle cose sono che noi oggi abbiamo questa storia prevalente, che è quella della valutazione multiattributiva, perché le altre sono tutte apparentemente uscite dal radar. Ok, nella forma che io ho presentato, esatto, ma infatti io voglio arrivare lì, perché secondo me c'è un progetto, un particolare progetto, che è quello che poi dopo vorrei provare a sviluppare, che è rimasto orfano, orfano di uno sviluppo, e ve ne voglio presentare la motivazione. Sto, come vi ho detto, sto prendendo a piene mani da questo articolo e da alcuni altri, questo secondo me è uno dei più puliti ed è anche enormemente difficile da trovare. Se lo volete vi mando in pdf, perché ci ho messo tipo dieci anni per riuscire ad averlo in pdf, e secondo me se lo cercate, magari sono io che sono incapace, ma se lo cercate con altri mezzi vi ritrovate nei guai. Ok, questo progetto è quello della US Novelty, questo è il titolo. Ok, però a volte mi è sembrato importante in questo incontro preliminare essere veramente molto esplicito, anche a rischio di essere un po' didascalico, perché io a volte ho la sensazione che di non riuscire a far capire, posso sbagliarmi naturalmente, ma qual è l'importanza di questa operazione qui? Cioè la US Novelty viene, la novità d'uso, viene considerata come una sfumatura, un arzigogolo, un epiciclo di un'altra cosa. Invece secondo me, al di là delle apparenze, è il punto, la scommessa, è una scommessa per riuscire ad ottenere un risultato che fa veramente la differenza rispetto a quello che dice Kiccia. Ok, e questo secondo me Warhol l'ha visto, semplicemente che poi nessuno se l'è tanto filato. Ok, allora, primo elemento di questo progetto, le premesse di questo progetto, oggi non me ne occuperò. Sì. Ecco, di quello se me ne dai una copia, perché... Eh, quello sì che quando volentieri... No, 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 ma infatti attenzione, io, no, 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 io ti citerò in tutte le sedi, io ho sempre questo... No, 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 no biografica io ho studiato mi è capitato di studiare questo a questa specie di ramificazione un po minoritaria ma secondo me molto importante della riflessione metodologica generale della scienza che una eredità la katociana che a un certo punto viene portata avanti da da un piccolo gruppo uno sparuto gruppo di autori principalmente sare world ok era una cosa qui aveva lavorato tantissimo matteo motterlini all'epoca è uno dei motivi per cui l'ho scoperto perché perché matteo ci aveva lavorato poi c'è appunto ha fatto altro ma comunque io ho studiato questa cosa qua d'accordo l'ho studiata e l'ho trovata plausibile generalmente convincente anche se ha prodotto dei problemi interni come capita in filosofia lo dice anche kitcher a un certo punto vengono fuori un po delle piccole cose che sembrano un po scolastiche vabbè lasciamo stare io l'ho trovata convincente dice dice enzo giustamente sì ma attenzione non è che tu sei insomma stai dicendo una cosa che esisteva ed è vero che esisteva però io ho questa questo strana atteggiamento da una parte quando la racconto dicendo vabbè quella è la nostra migliore soluzione del problema del metodo di solito la gente non non si fa convincere per niente mi risponde che non è vero e quindi dico ok c'è qualcosa che non mi torna e poi dall'altra parte dico se uno viene da questo percorso che è un percorso i miei dottoranni non sanno niente le persone che si laureano in filosofia della scienza di solito si laureano sapendo a malapena che esiste la use novel che a malapena hanno letto un po di laca perciò questa è una mia lama in tela che non c'entra da vecchio zio il problema principale è questo che se a me sembra chiaro che se quello che sto per scrivere è corretto allora chi c'era torto e ha torto anche oreskes e ha torto anche strevens cioè stanno dicendo una cosa dentro cui c'è una storia complicata che con degli elementi corretti però fondamentalmente sbagliata non è vero né che non vale la pena di farlo né che non esiste contenuto né che non esiste chiarezza né che la scienza generale è morta ok allora chi è che si sta sbagliando mi sto sbagliando io o stanno sbagliando loro non so ancora che cosa non mi torna non voglio vendervi come rivoluzionari delle cose che sono già scritte da in tantissimi posti la maggior parte delle cose che vi dirò con pochi eh dettagli è un baesiano però strevens il modo in cui ci arriva strevens è il percorso baesiano è un'altra cosa stessa No, no, io gli darei torto. È solo un nucleo molto stratto, ma non è vuoto. Ma non è vuoto. Ma questo non lo nega nessuno. No, no, non è vuoto. 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 A me non sembra di aver forzato i testi, nel senso, io sono in disaccordo con quello che lì viene enunciato, cioè che le riflessioni generali sul metodo sono vacue. Ok, però questi sono tre libri, sono tre libri di filosofia. Ok, questa è la posizione dominante, viene presentata come una posizione dominante. Quindi bisogna mettersi d'accordo. Se siamo tutti d'accordo io sono contento. Se non siamo d'accordo, fatemi però finire perché vale la pena magari tornarci, ma secondo me è giusto chiarire quali sono le potenzialità che secondo me a volte non sono ben chiare, anche se sono state enunciate, di questa pista, di questo percorso. Che è un percorso, ripeto, in salita, non voglio dire che non sia in salita, però secondo me ha la caratteristica di essere distinto sia da Popper sia da Kuhn. Per farla grossolanamente, il predittivista sarebbe Popper, che è quello lì dei pesi, come dire, non misurabili, incommensurabili, se volete, sarebbe uno. Allora, la prima cosa che la ricetta prevede questo, come suo percorso di sviluppo della teoria idealmente, la prima cosa si tratta sicuramente di indebolire le richieste del predittivismo radicale. Indebolire, cioè vuol dire, sì, vero, salvare i fenomeni non può andare bene, la sola richiesta di salvare i fenomeni perché è troppo a buon mercato, è troppo a buon mercato. I dati che risulteranno salvati sono tutti, troppi, ok? Su questo il predittivista ha ragione, ma non ha ragione a dire che deve esserci la previsione temporale, ok? Ci deve essere una base sempre ristretta, che sia stata isolata in modo opportuno, in base a qualche criterio decifrabile, dei dati che fa questo effetto di conferma, che è strettamente più ampia dei successi predittivi nel senso radicale della previsione e drasticamente più ridotta della totalità dei fenomeni salvabili e quindi poi salvati, se uno ne ha voglia. Questo insieme ristretto serve a superare quella caratteristica del predittivismo radicale, quella per la quale alla fine un'enormità di situazioni avremmo delle teorie che non hanno nessuna conferma, anche se chiaramente vogliamo dire che ce l'hanno, ok? E bisogna andarli a cercare, no? Allora devranno rientrare dentro questa categoria, dentro questo sotto insieme, dovranno andare a rientrare le maree per Newton, dovranno andare a rientrare Keplero per Newton, dovranno andare, secondo me, a rientrare l'elongazione limitata di Venere per Copernico, ci dovrà stare la diffrazione per gli ondularisti prima di Maxwell, ok? Ci dovrà stare il periodo di Mercurio, ok? Questa è una mossa programmatica che si vuole fare, quindi si tratta di una mediazione che deve essere ragionata, spiegata, che rilatta questa fissazione, per così dire, con le nuove previsioni in senso temporale, che è comprensibile ma è fondamentalmente esagerata, sproporzionata, eccetera. Questa è una prima caratteristica di questo movimento. Questo dovrebbe servire ad evitare la sottodeterminazione. Vi ricordate, la sottodeterminazione dipende da un fatto, quello che si possono sempre salvare, e da un elemento metodologico, cioè salvare il fenomeno è sufficiente. Se tu rimuovi quell'elemento metodologico, anche se preservi il fatto, nessuno qui nega che i fenomeni siano tutti salvabili, ok? Nessuno lo vuole negare, però tu cambi il metodo, come avviene con Popper, e ottieni che non c'è più lo stesso problema di determinazione, mostruoso problema di sottodeterminazione. Bisogna vedere poi quanto riesci a ottenere da questo punto di vista, però questa è una cosa molto importante. Poi, l'obiettivo è quello di recuperare la coerenza con quella casistica storica, no? Quindi, come dicevo prima, bisognerebbe riuscire a raccontare perché il Copernico vide nell'elongazione limitata un conferma, anche se quel fenomeno era salvato anche da Tolomeo. Perché Fresnel vide nella diffrazione, nel fenomeno di diffrazione, una conferma della teoria innovatoria, anche se i corpuscolaristi avevano una storia da raccontare e così via, ok? È un progetto molto ampio, naturalmente, di lavoro a cavallo fra un tradizionale lavoro di mediazione, di integrazione fra filosofia e storia della scienza, di quelli che anche quelli non si fanno quasi più, però comunque questo è il progetto. Questo è un punto, per me, importantissimo e non pretendo che sia semplice. Questo progetto è un progetto riduzionista riguardo le vertu teoriche, è un progetto metodologicamente monista, dice, è un progetto di metodologia empiristica radicale, cioè la use novelty è l'unica cosa che conta. Tutte le altre cose sono delle manifestazioni superficiali, sopravvengono rispetto alla use novelty. Esempio, dividiamo le vertu teoriche nella loro componente confermazionale e nella loro componente pragmatica. La componente pragmatica non ci importa, semplice perché i calcoli sono semplici, va benissimo, lo puoi fare, fatti i tuoi, ma non è il tema del metodo, ok? Il tema del metodo sono le componenti confermazionali. Quando i studiosi parlano come Weinberg, come Copernico, parlano di eleganza e di semplicità, è perché non hanno un nome per nominare la novità d'uso. Vuol dire che vedono una relazione di conferma riferita a dei fatti che rappresentano un successo empirico di questo tipo e non hanno un nome per chiamarla. Quando parlano di potere esplicativo, quando parlano di quelle cose lì, nella componente confermazionale di queste considerazioni, è perché non hanno un nome per chiamare questa cosa qua. In linea di principio, tutte quelle cose lì possono essere ridotte, ridotte, cioè io ti posso dire, questo è il progetto, prendiamo Copernico, io ti posso dire che tutte le cose che facevano la differenza, perché erano nove d'uso, te le elenco, ti spiego perché soddisfano una definizione di novità d'uso, e poi in teoria vado a cercare il testo di Copernico e ti dico, vabbè, Copernico qui sta dicendo quello, ma non sa come dirlo, e quindi dice che è una spiegazione più semplice. Questo è il progetto. Questo è molto importante perché se davvero uno riesce a portare a compimento questo progetto di riduzionista nei confronti delle componenti confermazionali e delle virtù teoriche, non hai più il modello multiatributivo, c'è solo una dimensione che è successo empirico, è una metodologia monista, è una metodologia empirista e monista, e questo va incontro secondo me ad alcune delle inclinazioni di Enzo, perché quando tu dicevi alcune sono serie, secondo me la mia analisi è, lo sono quelle che si prestano a questa ricostruzione qua, le altre sono di altra natura. Si tratta di vedere se poi si riesce a fare, però il motivo per cui questa scommessa può fare la differenza, io non sto dicendo che chi ci abbia torto, sto dicendo che potrebbe avere torto, ok? E se avesse torto questo sarebbe un modo per evitare il suo pessimismo, il suo disincanto. Va bene, è troppo bello per essere vero, può darsi, arrivo subito, ho finito, qui per concludere scherzosamente, cito Lakatos che diceva tra le altre cose, a un certo punto non c'è niente di razionale nel giocare ad un gioco rischioso, questo è un gioco rischioso, perché noi questo compito non l'abbiamo ancora svolto, ok? Non l'abbiamo ancora completamente svolto per una serie di motivi, anche di dettaglio, che adesso non posso toccare, ma a un certo punto vorrei che ci arrivassimo. Naturalmente per giocare a un gioco rischioso uno deve pensare di avere molto da guadagnare. Io speravo venerdì prossimo, giovedì prossimo, di provare a raccontarvi che cosa potremmo avere da guadagnare se questa cosa funzionasse, prima di provare a farvi vedere come farla, perché almeno così siete motivati a seguire il resto. Ho finito. Ho finito.